Rimpianti in casa Gela, tre volte in vantaggio e tre volte ripresi. I biancazzurri fanno la partita a palmi ma alla fine devono accontentarsi di un pari. Potevano essere tre punti d'oro, ne è arrivato solo uno, ma la squadra c'è e come. Andiamo subito alla cronaca, la formazione di Pippo Romano si rende subito pericolosa. Prima con un colpo di testa che va fuori, poi su una punizione deviata dalla barriera che solvola la traversa. Gela ancora in avanti ma il gol non arriva per un soffio. Ancora Gela ma il risultato non si schioda. La Palmese tenta di impenserire biondi nelle ripartenze. Bravo il portiere ma l'azione era stata fermata per fuorigioco. Ancora Gela si ad un passo dal gol. Gol che arriva al ventiquattresimo con Alex Dorato su un erroraccio della difesa calabra. La Palmese ci prova subito a ristabilire la parità. Prima una conclusione finisce fuori, poi la palla su calcio di punizione termina alta. Il pareggio però è nell'aria e giunge al trentunesimo con Gagliardi. I biancazzurri si riportano in avanti ed è bravo il portiere Franza a negare la gioia del nuovo vantaggio. Ancora Franza interviene su calcio di punizione. Sul finire del primo tempo arriva il 2-1, lo sigla Brugletta. Nella ripresa subito Palmese all'attacco in pochi minuti ma non accade nulla. Le ripartenze dal Gela sono costanti. Bonanno fallisce il 3-1 prima calciando alto e poi facendosi parare la conclusione dall'estremo difensore di casa. La Palmese a quel punto ingrana la marcia. Biondi dice di no in un primo momento ma al ventiquattresimo capitola è 2-2. Il Gela non ci sta. Prima sfiora al 3-2 e poi con arma trova nuovamente il vantaggio. È il ventinovesimo. I biancazzurri potrebbero chiudere la gara ma la fortuna non ne li aiuta. E al trentasesimo arriva il pareggio, lo sigla De Lucia. La formazione di Romano ritenta all'allungo ma il portiere calabrese dice nuovamente di no in due occasioni. È bravissimo però l'estremo difensore gelese a pochi istanti dalla conclusione del match a bloccare due azioni insistite della Palmese. Finisce 3-3. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? In classifica e biancazzurri si attestano al settimo posto con 12 punti. Sono 5 i punti di distacco dal primo posto occupato dall'Ercolanese. Domenica Vincenzo Presti, Moia e compagna affronteranno l'isola Capo Rizzuto, penultima in gradatoria. Il Gela, lo ricordiamo, deve ancora recuperare una partita, quella con la Vibonese.